Amici di Tele1 ci troviamo quest'oggi dinanzi all'Istituto Sacro Cuore delle Suore che è situato qui in contrada a Santa Lucia nell'area urbana di Corigliano. Siamo qui purtroppo non per dare testimonianza dell'ingomiabile lavoro e l'attività religiosa, sociale, educativa svolta dall'Istituto Sacro Cuore qui a Corigliano Rossano, ma per dare notizia di un grave fatto di cronaca che si è verificato nelle ore della notte appena trascorsa. Un vero e proprio furto in piena regola qui all'interno dell'Istituto che ha destato non bocca e comprensibile preoccupazione, furto di 500 euro e di un telefonino, ma soprattutto al di là di quello che è appunto il danno. Soprattutto il danno è appunto di natura morale anche per i vari accadimenti, le varie incursioni di questi ladri all'interno appunto dei locali e che vi mostreremo perché appunto davvero non hanno risparmiato nessuna area dell'Istituto. Naturalmente sono subito intervenuti nelle ore della notte appena allertati i carabinieri della locale compagnia guidata dal capitano Cesare Calascibetta che sono al lavoro per risalire agli autori di questo misfatto. Ebbene siamo proprio qui all'interno dell'Istituto Sacro Cuore. Questa è stata la prima, fra virgolette, tappa, se così si può definire, l'ingursione da parte di questi malfattori nelle ore della notte appena trascorsa. La finestra alle mie spalle, come vedete appunto è stata, i vetri sono stati frandumati, ancora appunto giacciono a terra. Da qui si sarebbero, si sono introdotti appunto gli autori, perché sembra che appunto siano più, certamente più di una persona, all'interno dell'Istituto per fare appunto una vera e propria razzia. Danni consumati in tutti i locali, nel refettorio, addirittura nella cappella dell'Istituto dove sono stati gettati dei paramenti sacri. Oltre, come dicevamo, al furto di 500 euro e di un telefonino che è stato immediatamente denunciato appunto dalle suore dell'Istituto Sacro Cuore. Ci troviamo all'interno del refettorio delle suore, dove qui appunto questa tavola, che potremmo definire invandita, è in realtà la testimonianza, una delle tante testimonianze della visita, fra virgolette, di questi ladri, nelle ore della notte appena trascorsa. Come vedete è stato preso del cibo e sono state aperte delle bevande, soprattutto è stato davvero messo a suo quadro un poco tutto, anche con dei veri e propri episodi che io definirei di vandalismo e di civiltà, perché non soltanto il furto che è stato perpetrato, ma soprattutto, dicevamo, quelli che sono i danni arrecati alla struttura e soprattutto anche una forma di violenza a quella appunto che è l'attività quotidiana preziosa svolta dalle suore dell'Istituto Sacro Cuore. Ricordiamo che quest'Istituto appunto è costituito da sei sorelle appunto che quotidianamente svolgono questa preciosa attività educativa e formativa ed ospitano tra l'altro cinque bambini. Come potete vedere addirittura le bevande sono state gettate anche negli arredi appunto del refettorio delle suore, quasi proprio a non soltanto appunto ladri, ma anche appunto vigliacchi, perché hanno in questo modo voluto affermare una brutale forza che in realtà chi compie questi gesti assolutamente non ha. Dulcis in vunto ci troviamo all'interno della cucina dell'Istituto Sacro Cuore. Qui è stato letteralmente messo a soccuadro tutto. Le sorelle ieri sera dopo cena hanno, come avviene ogni giorno, ordinato, pulito tutto quanto ebbene vedete alimenti, bevande, tutto quello appunto che era contenuto negli armadietti, appunto negli appositi contenitori qui in cucina è stato gettato qui. Quindi non soltanto, dicevamo, l'azione furtiva si commenda da sola, al di là del dato, al di là del danno al recato, ma soprattutto è tutto ciò che è stato costituito, appunto che è stato lasciato a mo' disegno qui all'Istituto delle Suore. Vedete appunto tutti gli immobili appunto della cucina sono stati divelti, sono stati rovinati e addirittura, addirittura il fatto si commenta da sé per come a dir poco deplorevole, lasciati degli escrementi. Quindi qualcuno qui ha defecato e quindi questo quasi a sugello a firma di questa opera compiuta nelle ore della notte. Davvero non ci sono parole per testimoniare quello che è un grave fatto che soprattutto diventa ancora più grave perché intacca un istituto appunto privato, come dicevamo, un istituto di culto, un luogo di culto e purtroppo un'abitudine che si sta verificando negli ultimi tempi. Solo qualche settimana dietro ricordiamo ecco la brillante azione svolta dai carabinieri della locale compagnia che hanno individuato subito in fragranza e arrestato due ragazze di 18 e 19 anni intenti a rubare le offerte all'interno della Chiesa Maria Santissima delle Grazie di Corigliano Scalo arrivando addirittura a gettare per terra a far cadere la statua di Santa Rita. Per quanto invece riguarda questo fatto dobbiamo dire qualche particolare che ci è stato raccontato qui dalla Superiore, dall'Istituto e dalle Sorelle che ringraziamo per averci accolto. E' stata la stessa Superiora a dare l'allarme attorno alle ore 3 della notte allorquando ha visto un'ombra all'interno della propria camera da letto quindi mentre lei era in dormiveglia e intenta a trafugare una busta contenente 500 euro nonché il telefonino personale della Superiora. La Superiora si è messa a urlare, ha dato l'allarme naturalmente questo giovane sembrerebbe un giovane un buco dalle ombre quindi viene descritto come un'ombra dalla corporatura esile sicuramente in gruppo con altri autori di questo misfatto si è poi dato alla fuga dopo evidentemente aver fatto in tutta tranquillità tutti questi danni all'interno della struttura. Dobbiamo aggiungere un altro particolare che sono state anche rubate due chiavi quelle dello scuola bus che le suore utilizzano anche per l'accompagnamento dei bambini nelle loro attività quotidiane e invece anche la chiave della Fiat, dell'auto che utilizzano le suore appunto per le incombenze per le commissioni quotidiane fortunatamente almeno i veicoli non sono stati intaccati. Come dicevamo anche la cappella dell'istituto è stata presa di mira. Concludiamo questo triste squallido tour all'interno dell'istituto Santa Lucia per testimoniare l'azione furtiva perpetrata nella notte laddove gli autori, perché giusto a questo punto usare il plurale a quanto sembra di questo appunto grave accadimento si sono poi dati alla fuga questa finestra che infatti le sorelle stamattina hanno trovato completamente aperta qui ci troviamo proprio all'interno della cappella dell'istituto e infatti è stato anche trafugato un abito talare stamattina le sorelle oltre appunto ad aver allertato immediatamente nelle ore della notte i carabinieri che sono immediatamente intervenuti dando vita alle indagini hanno subito raccontato il fatto nella mattinata odierna a Dombino Mustaro che è il parroco della chiesa San Nicola di Fabrizio il quale poi ha provveduto anche a contattare la nostra emittente per dare notizia dell'accaduto e subito sappiamo anche che ha espresso solidarietà alle sue ore telefonicamente questa mattina subito anche l'arcivescovo di Rossano Cariati cosa dobbiamo dire? dobbiamo dire null'altro perché ogni parola davvero è insufficiente e soprattutto è anche inutile le immagini mai come in questo caso parlano chiare lo ripetiamo e concludiamo così non è tanto soltanto l'azione furtiva certamente deprecabile certamente da condannare e da perseguire penalmente quella appunto compiuta questa notte all'interno dell'istituto Sacro Cuore delle Suore appunto incontrata a Santa Lucia di Corigliano ma è soprattutto l'azione di vilipendio l'azione di vigliaccheria che è stata perpetrata da questi ancora anonimi malviventi ai danni di queste nostre sorelle di questo istituto che è davvero un punto di riferimento prezioso non soltanto per l'attività religiosa svolta ma soprattutto per quella che è l'attività sociale educativa, formativa, assistenziale nei confronti appunto di chi ha bisogno che svolge davvero da tantissimi anni da una vita l'istituto delle suore di Santa Lucia naturalmente massima fiducia nell'operato delle forze dell'ordine i carabinieri lo ripetiamo alla guida del capitano Calascibetta sono immediatamente intervenuti sperando appunto che vengano individuati al più presto naturalmente ferma unanime condanna di questo accadimento con l'auspicio che non se ne abbiano più a registrare né prossimamente né in un tempo ecco futuro grazie a tutti